L'autorizzazione O è comunque un biglietto da visita importante per le aziende che decidono di intraprendere questo percorso, a maggior ragione a mio parere se si tratta di aziende che operano a livello internazionale, si tratta comunque di una certificazione di fiducia aziendale, quindi di fatto per me ha una valenza importantissima. Grazie a tutti. Grazie a tutti.